le denominazioni intorno al lago di garda sono caratterizzate anche da una comunanza di territorio ovviamente perché stiamo parlando di una zona decisamente piccola se parliamo per esempio della doc custoza condivide anche alcuni comuni insieme alle altre denominazioni tocca la reale di somma campagna di villa franca veronese di peschiara del garda quindi sono tanti territori che effettivamente vengono sfruttati da più denominazioni ma anche i stili di vino stessi vengono effettivamente utilizzati da più denominazioni il bardolino chiaretto ad esempio in età più moderna contemporanea ha sviluppato anche la spumatizzazione stiamo parlando sia di metodo charmat che di metodo classico stessa sorte è toccata la denominazione custoza che è una denominazione antichissima comparsa come denominazione per la prima volta nel 1971 che prevede vari stili tra cui appunto la spumatizzazione il vitigno principe però ovviamente è un vitigno completamente differente stiamo parlando della fernanda la fernanda è una sorta di cortese quindi è un vitigno bacca bianca che tende ad essere abbastanza generoso però anche molto delicato è molto piacevole nelle sue espressioni questa forse è proprio una delle caratteristiche di tutti i vini del lago la piacevolezza in questo caso però la fernanda viene accompagnata da altri vitigni altri che ovviamente sono proprio classici della zona il trebbiano il trebbianello la garganega quindi abbiamo proprio una comunanza di di vitigni che vengono utilizzati sempre in blend all'interno della denominazione per arrivare da un massimo del 45 per cento di utilizzo di un singolo vitigno fino al 70 per cento di tutti questi vitigni insieme il 30 per cento generalmente viene destinato a vitigni complementari tipo il riesling l'incrocio manzoni le malvasie quindi si cerca di portare un po più di aromaticità mettiamola così quindi un giusto blend tra quelli che sono dei vitigni non aromatici o semi aromatici perché comunque la fernanda tende avere una spiccata aromaticità e quelli che appunto invece riescono a portare questo corredo di profumi estremamente importante dato da questo blend ovviamente il colore stesso di quelli che sono i vini custozza possono cambiare non e non poco ci sono stati degli interpreti che hanno creduto da subito nel potenziale di questo territorio ovviamente i suoli sono gli stessi che abbiamo analizzato per quanto riguarda il bardolino quindi abbiamo grazie a quello che è stata proprio il susseguirsi di glaciazioni un e poi con il ritiro dei ghiacciai un suolo estremamente eterogeneo e aperto quindi questo fa sì anche che i vitigni possano trovare la propria casa e la loro espressione più interessante in zone differenti nel caso per esempio della prima azienda che ha fatto comparire ancora prima dell'istituzione della denominazione il nome custozza in etichetta parliamo di cavalchina siamo in nella zona di somma campagna quindi torniamo un po dove abbiamo analizzato quello che era il mondo del decchiaretto di bardolino ecco nella zona di somma campagna qui cavalchina della famiglia piona è esattamente nella località omonima che prende il nome probabilmente dai conti cavalchini questo è stato un anfiteatro di battaglia nella storia ma è sempre stato un sito produttivo riguarda il vino anche storicamente però la differenza sulla qualità e invece la semplice produzione la fa l'attenzione in questo caso la famiglia quando va a lavorare fa selezione in vigna tre volte dei grappoli facendo questa selezione vuol dire che anche la quantità di vino prodotto ogni anno può variare non poco quindi non è soltanto l'azienda che ha dato origine alla denominazione e che per prima appunto ha messo in etichetta il nome custozza ma è anche un'azienda che ha un focus qualitativo importantissimo quindi ogni anno una produzione di vino differente ma è molto interessante come lavorano sulla fernanda la fernanda tende a essere quasi un semi aromatico e quindi vengono fatte delle macerazioni per cercare di estrarre un po più di profumi sono macerazioni comunque molto brevi poi vengono uniti gli altri vitigni che in questo caso sono principalmente trebbiano e garganega per andare a creare quindi il il blend questo blend dà la possibilità poi di avere un contatto sulle fecce fini sui lieviti abbastanza prolungato stiamo parlando ovviamente di una versione secca del del custozza per un vino che tende avere una colorazione leggermente più dorata rispetto al custozza classico che ha sempre questo giallo brillante però tende a non avere questa trama di colore così così fitta ed è un vino estremamente piacevole immediato e ovviamente il fatto di avere un vitigno imparentato con il cortese all'interno del calice ci permette di avere poi questo buon buon equilibrio per avere questo buon equilibrio però che cosa fa la famiglia decide di non svolgere la malolattica quindi di tenere quella vena di acidità molto marcata data dall'acido malico che è il l'acido che poi con la fermentazione malolattica viene trasformato in acido lattico quindi un acido più morbido è quel acido appunto un po più pungente che dà grande freschezza proprio per equilibrare questa piacevolezza del della fernanda la denominazione però prevede in realtà anche altre tipologie di vino quindi oltre a quella classica il secco quello quello annata abbiamo la possibilità di lavorare sulla riserva che prevede l'invecchiamento di almeno un anno viene utilizzato spesso e volentieri appunto la botte in legno perché anche grazie alla presenza della fernanda siamo in grado di andare a sopperire quindi anche a supportare quello che può essere questo tipo di invecchiamento abbiamo poi anche la versione passita che è estremamente interessante è un appassimento classico tradizionale è un vino che comunque tende ad avere anche una buona una buona freschezza un vino decisamente avvolgente ma soprattutto abbiamo la versione spumante come dicevamo che la comuna anche alla zona di bardolino con vitigni completamente differenti che va a prevedere di nuovo sia il metodo classico dove troviamo un po più di complessità ovviamente anche un po di persistenza in bocca che il metodo charmat che invece è più immediato la particolarità è che vengono ripresi tutti i dosaggi tipici del metodo classico dello champagne partendo dal padose però si arriva al demi sec quindi non si va alla versione dolce perché per quello abbiamo effettivamente il custosa passito quindi una denominazione che sa guardare anche a quelle che sono quelle dinamiche commerciali senza mettere in competizione per le funzioni i vini e questo è un qualcosa di estremamente interessante quindi custosa è un'altra denominazione vicino al lago che sta ritornando e che si sta facendo notare per la grande piacevolezza perché non stiamo parlando di grande complessità ma di vini immediati facili da bere e che possono accompagnare proprio gli aperitivi e le diciamo i pasti più frugali più immediati non abbiamo bisogno di avere sempre vini da meditazione eccezione fatta ovviamente per il custosa versione passito Grazie 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 Grazie